E io arrivo questa mattina con l'aereo Don Kong e così volevo visitare un po' la città. Guardi, la voglio portare in una festa stupenda, sull'appia antica di una villa favolosa. Ma che gente è? Sono i principi Cagliano della Sgurgola. Ah sì, sì, conoscevo benissimo la vecchia, certo. Beh, allora in questo caso... Siamo arrivati.